Un modo per evidenziare quella che è una situazione veramente drammatica, ignorata dal governo e che vivono tanti cittadini italiani. Nella sostanza, quando si tratta di assegnare degli aiuti, il governo ha fatto una scelta non condivisa dai cittadini, nel senso che non è contenuta in nessun programma elettorale approvato dai cittadini, ma decisa motu proprio dal governo Renzi, dal premier Renzi e da tutti i suoi ministri, che è quella di privilegiare nell'assegnazione dei fondi per finalità sociali o di tipo assistenziale o di tipo integrativo, sostanzialmente coloro che arrivano nel nostro paese per ultimi rispetto a tutta una serie di soggetti cittadini italiani che magari hanno contribuito nella loro vita a far grande il paese e hanno contribuito allo sviluppo economico del paese stesso. C'è da dire una cosa, che noi non riteniamo che si debbano sottrarre i fondi per i veri rifugiati, cioè per coloro che provengono da aree dove c'è una situazione di guerra, dove ci sono delle persecuzioni, dove sostanzialmente il diritto internazionale riconosce per coloro che vivono in quelle zone la possibilità di trasferirsi in altre realtà e quindi il diritto ad essere aiutati. Riteniamo che ci sia un eccesso invece di richieste per il riconoscimento dello status di rifugiato politico. Se voi pensate che su circa 22.000 domande analizzate dall'inizio dell'anno ad oggi solo 811 hanno visto riconosciuto lo status di rifugiato pieno. Lasciamo perdere l'assistenza sussidiaria, la protezione sussidiaria, la protezione umanitaria, che si parla di un paio di migliaia di persone da una parte e di 4.000 persone dall'altra. Ma comunque lo status di rifugiato, che è quello che conta veramente, 811 su 22.000 domande analizzate, non presentate, perché presentate sono state altre 23.000 in questi mesi. e vi rendete conto che in effetti tanti di questi soldi vanno a persone che sono definiti migranti economici, ma che sono sostanzialmente dei clandestini, che pensano di poter venire in Europa per migliorare la loro condizione economica e quindi non perché, lo sottolineo nuovamente, fuggono da situazioni di disagio, di persecuzione o di guerra e questo va sostanzialmente a gravare su una situazione che vede quindi penalizzata quella che è la possibilità di aiutare i cittadini italiani che soffrono per la crisi ormai da tanti anni e che non riescono ad avere quelle risposte che invece secondo noi sono dovute a queste persone. Abbiamo giocato la carta dei sindaci, o meglio i sindaci, si sono fatti interpreti di questa esigenza e hanno evidenziato ai rappresentanti del nostro movimento all'interno del Parlamento la necessità di portare anche nelle aule parlamentari e i rappresentanti, il capigruppo di Camera e Senato della Lega hanno giustamente deciso di seguire questa linea di dirizzo, questa proposta, di portare una soluzione, cioè sostanzialmente di poter permettere ai cittadini italiani di godere degli stessi privilegi ma degli stessi diritti, perché questo è il termine giusto da utilizzare, che sono riconosciuti a coloro che anche furbescamente cercano di poter ottenere dallo Stato italiano pur sapendo di non poterne beneficiare degli aiuti e l'accoglienza, il che vuol dire la possibilità di vivere nel nostro Paese tra analisi della prima domanda e ricorso magari anche per più di due anni con delle risorse che vengono sottratte quindi ai nostri concittadini che per noi andrebbero aiutati in primi soprattutto perché c'è questo comportamento fraudolento, definiamolo pure così, da parte di soggetti che proveniendo da Paesi che non hanno nessun problema sanno benissimo che non vedranno mai riconosciuto la loro richiesta tra l'altro altri Paesi dell'Europa impediscono di presentare domande per la richiesta di Stato di rifugiato nei loro Paesi se si proviene da Paesi che non sono riconosciuti a livello internazionale come problematici quindi hanno creato, io capisco che sia brutto utilizzare certi termini per quanto riguarda persone che arrivano da altri Paesi però white list e black list e quindi se uno arriva dalla Siria sicuramente è inserito dalla white list se arriva da un Paese non problematico come potrebbe essere il Marocco è inserito dalla black list e quindi non può nemmeno presentare la domanda e giustamente negli altri Paesi si è deciso anche di intervenire sul tempo che viene lasciato alle commissioni per fare l'analisi della richiesta di Stato di rifugiato 30 giorni in Germania noi siamo a un anno e qualcosa non c'è un limite temporale, è per quello che si può arrivare anche ad un anno o forse più anzi sicuramente più in alcuni casi per l'analisi di queste domande e con l'appello, con la possibilità di fare ricorso, come dicevo prima si passano anche i due anni sono situazioni che non funzionano, sono risorse che vengono sottratte a cittadini che ne hanno bisogno e che hanno forse l'unico torto in questo caso di essere cittadini italiani grazie a tutti